Pupa, Pupa, Pisa. Continua a diffondersi anche a livello internazionale l'interesse per il film di Stefano Cattini intitolato L'Isola dei Sordobimbi, realizzato con gli alunni e il personale della Scuola delle Figlie della Providenza di Santa Croce di Carpi. A Tartu in Estonia è stato scelto come film di chiusura del concorso World Film Festival, molti consensi anche dai tanti giovani studenti italiani presenti. L'Isola dei Sordobimbi verrà poi presentato al Buck County Community College di Newtown, tra New York e Filadelfia, il 19 aprile 2011, in presenza dell'autore. La proiezione è inserita all'interno del programma della settimana che il College americano dedica interamente alle arti. Grazie all'iniziativa del Centro di Documentazione Handicap di Bologna e della cooperativa H Parlante è possibile organizzare anche proiezioni accessibili per non vedenti. Il DVD L'Isola dei Sordobimbi è ora disponibile facendone richiesta con una mail a studio santoro g.chiocciolalibero.it oppure presso i seguenti punti vendita a Carpi, l'Alef di via Marx, la libreria Fenice di via Mazzini e a Correggio la libreria Moby Dick di Corso Cavour e Modena a fusi orari in piazzale Torti 5. Panino! Alle tre! Alle tre! Grazie! Grazie! Grazie a tutti!